Presso le sale del teatro della parrocchia San Rocco di Cesena si consegnano i premi per il premio Margherita d'Argento che per la 37esima edizione vede partecipare ben 231 artisti. Prima domenica di marzo si conferma l'appuntamento con gli artisti per il premio La Margherita d'Argento, tantissime le opere esposte anche in questo 2012. Sì, devo dire che noi si temeva molto questo anno perché era considerato l'anno di crisi, però voglio dire che gli artisti hanno risposto con generosità e si sono presentati numerosi a questo appuntamento. Sono quindi 231 le opere, sono 22 mila gli euro di premio, sono 3 mila gli euro che vanno ai primi premi. Sì, la caratteristica di questo concorso da qualche anno a questa parte, dalla 30esima edizione, è stata quella di superare inizialmente quella che era una struttura sostanzialmente di premi ad exequo e abbiamo individuato per ogni genere figurativo, la strato informale, il paesaggio e il figurativo, abbiamo individuato dei premi particolari, dei premi speciali.